troppo brutto il sesto rilevante per essere vero i corsari perdono 2 a 0 in casa contro l'asti e a preoccupare maggiormente l'involuzione che questa squadra ha registrato in un mese troppi gol subiti, 10 in 5 partite una media di 2 a gara parte male la sfida per il rosso-blu ieri con una improponibile maglia blu perché al 25 rimangono in 10 per l'espulsione per somma di ammunizione di Lazzerini alla mezz'ora i galletti ne approfittano cross di De Stefano, colpo di testa di Lobosco e palla in gol al 43 i biancorossi si rendono ancora pericolosi con Lobosco la sua staffilata finisce fuori di poco nella ripresa la musica non cambia anzi, al 55 Bartoletti in uscita ferma il solito Lobosco al 57esimo l'arbitro espelle per protesto il tecnico del sestervante Enric Di Bin allo scoccare dell'ora di gioco l'indiavolato Lobosco prova a sorprendere Bartoletti con un tiro teso da 30 metri il portiere Sestrino c'è al 66esimo arriva il meritato raddoppio piemontese con Rolando che da due passi mette alle spalle di Bartoletti e nel finale Orlandini evita lo 0 a 3 salvando sulla linea riuscire ad analizzare perché in effetti in quest'ultimo mese qui non siamo più riusciti a imporre il nostro gioco e essere determinanti e cattivi giusti per vincere le gare l'idea che si è fatta è che magari la difesa è giovane è vera, magari qualche errore lo può anche fare però il centrocampo oggi è stato quasi inesistente e purtroppo gli attaccanti poi non hanno avuto le palle per appunto far male è vero anche che magari da determinati giocatori che possono fare la differenza ci si aspetta di più il calcio è un gioco collettivo e tutti quanti dobbiamo giocare e lottare per un obiettivo se i difensori vanno bene essendo giovani e quando hai davanti un reparto avanzato che ti deve fare la differenza la devi fare per forza perché deve sopperire all'età giovane dei giovani perciò è il centrocampo normale oggi tra l'altro è beniscato qualcosa per cercare di lasciare più spazio alle punte nei davanti lasciando due centrocampisti perché giustamente siamo in casa della gara la dobbiamo fare noi e invece non siamo mai riusciti neanche ma non a servire le punte perché quando non servire le punte può dar sì che le punte non si muovono bene